Già prima del pronunciamento del Tribunale, giunto poco fa, avevano dovuto riportare indietro quattro persone, due fragili e due minori. L'abbiamo sempre detto, non è pensabile identificare minori e fragili su una nave. La recente sentenza della Corte di Giustizia europea, che ho illustrato brevemente anche in aula, stabilisce che non si può considerare sicuro un paese se non lo è in ogni parte del suo territorio e per chiunque, per qualunque categoria o gruppo di persone. Torno a chiedere allora l'Egitto, perché alcune di queste 16 persone sono egiziane, allora l'Egitto per il governo italiano è un paese sicuro? È sicuro in ogni parte del suo territorio per chiunque? È un paese dove un ricercatore italiano è stato torturato e ucciso e migliaia di egiziani sono stati illegittimamente detenuti. Vi dovete fermare, smontare tutto e tornare indietro e chiedere scusa agli italiani. Ed aggiungo che è vergognoso e inaccettabile che oggi tre ministri siano in piazza a manifestare contro dei magistrati contro un altro potere dello Stato, peraltro magistrati messi sotto scorta per effetto dell'odio che questa destra fomenta anziché contrastare.